Ciao, sono Jacopo e in occasione della Festa della Repubblica vi leggerò l'articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell'intera Costituzione, in cui si afferma il principio di uguaglianza. La pari dignità sociale di tutti i cittadini viene affermata concretamente citando quegli ambiti in cui le discriminazioni risultano più diffuse e comuni. Il secondo comma trae invece ispirazione da un dato oggettivo. La disparità di condizioni economiche e sociali determina disuguaglianza di fatto. La Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per creare le condizioni necessarie al fine di consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie ispirazioni. Ne deriva che il diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione deve essere garantito a tutti. L'esplicito riferimento ai lavoratori nella parte conclusiva dell'articolo va interpretato in senso estensivo, ovvero ogni cittadino che svolgo abbia svolto un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società. Buona festa della Repubblica!